come montare la memoria ram in un computer portatile di un notebook salve a tutti utenti di youtube da leandro narratore italiano davanti a me come vedete c'è un computer portatile hp è uno di quei computer portati molto vecchi una delle caratteristiche di questo computer purtroppo è che spesso e volentieri la scheda video andava a farsi benedire infatti se puoi provare accenderlo spesso e volentieri vi capiterà che vi appariranno delle diciamo così righe come si mette la memoria ram in un computer portatile si cavo oggi il computer portatile in questione come ho fatto io ora ora si solleva l'alloggiamento utilizzando un cacciavite a stella io ho tolto l'alloggiamento centrale da qui era un coperchio di colore nero utilizzando questo simpatico nonché meraviglioso cacciavite a stella dopodiché qui trovate l'alloggiamento della ram per installare la ram che avete dovuto comprare eccola qui questo è un banco di ram da un gigabyte in totale basterà che voi andiate a far combaciare la parte alta e la parte bassa con il relativo alloggiamento con i relativi buchi vedete vero questa parte qui è più estesa di quell'altra quindi di conseguenza bisogna semplicemente fare scivolare o meglio ingressare scusate il termine forse poco esatto la rama all'interno del banco in questione del reparto in questione facendolo letteralmente scivolare quindi vada ad adibire la in questione questo banco facendo così spingendo bene dopodiché una volta che sono entrato completamente che mi sparisce la riga gialla vedi vedete che è sparita è sparita perché l'ho inserita tutta fino in fondo devo inserirla fino in fondo come ho fatto ora devo spingere verso il basso come farò io al mio 3 1 2 3 ecco qua ho inserito ma io ho installato il mio banco di ram il mio banco di ram da un gigabyte molto facile va bene quindi ricapitolo entrate dentro infiliate fino in fondo il banco di ram o i banchi di ram deve sparire la riga gialla deve combaciare con la parte più alta o quella più bassa oppure due parti uguali se abbiamo un altro tipologia di memoria ram dopodiché bisogna spingere verso il basso e la memoria ram sarà installata vedete che non va più via non si toglie più la ram in questione significa quello installata bene ok molto facile grazie a tutti utenti di youtube da leandro narratore italiano iscrivetevi al canale questo tutorial termina qua fatemi sapere cosa ne pensate ciao a tutti